bentornata su mettiti comoda che parliamo di soldi il podcast di silvia lanfranchi la quiet coach la mia missione come money coach e mentore di business online è quella di aiutare le solopreneur come te a far pace col denaro chiedere i soldi che ti meriti imparare a vivere nell'abbondanza manifestando una vita che ami al 100 per cento in questo podcast troverai consigli strategie spiritualità e un po di neuroscienze che ti aiuteranno a trasformare il tuo mindset nei confronti dei soldi sarò la tua coach quella da cui vai quando hai bisogno di essere ascoltata ma anche quando vuoi ricevere la spinta giusta nella direzione giusta sei pronta allora mettiti comoda che iniziamo a parlare di soldi e di business online qualche settimana fa parlavo con mia cliente del mentoring che ha una palestra online è un insegnante di pilates e fitness e ha insomma insegna sia dal vivo che online così chiacchierando è venuto fuori che ha degli abbonamenti trimestrali sui quali però non c'è rinnovo automatico e ho scoperto che lei fa anche delle lezioni diciamo è in palestra fa delle lezioni dal vivo con le persone che sono in palestra ma si possono seguire anche queste lezioni via zoom ma non c'è modo di acquistarle in automatico quindi magari la prima lezione che faccio è giusto che io contatti lei per iscrivermi ma poi se ho piacere a rifare delle altre lezioni magari vorrei acquistarmi l'autonomia non è possibile bisogna per forza contattarla questo mi ha fatto fare una riflessione se vuoi un po dura e un po magari anche un po buffa in un certo modo sul fatto che ho l'impressione che a molte delle mie clienti in realtà molte delle persone che mi seguono o che vedo online facciano schifo i soldi poi ovvio che sia una provocazione perché gli fanno schifo i soldi davvero hanno solo paura di non meritarsi quei soldi oppure che il loro lavoro non rispecchi il prezzo che chiedono ho individuato alcuni segnali che possono aiutarti a capire se anche tu sei schifando i soldi primo segnale non parli mai o parli molto di rado esplicitamente dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi le dai per scontati sono sul sì ma tanto la gente lo sa che ho quel servizio è lì sul sito oppure no vabbè ma sì ne ho parlato tre settimane fa in una storia no parlando di tre settimane fa in una storia sola non vuol dire avere parlato di un servizio seconda cosa che indica che probabilmente sei schifando i soldi dai per scontato delle assunzioni delle convinzioni che ti sei creata e secondo te sono la legge ad esempio tanto la gente non si allena d'estate oppure tanto nessuno compra ad agosto conseguenza quindi non serve nemmeno che io poi a vendere terzo segnale dai per scontato che se anche tu chiedi i soldi le persone non ti daranno e questo si riflette e vale anche nella tua vita privata quando devi chiedere alle mamme delle amichette di tua figlia i 10 euro che tu hai anticipato per fare regalo alle maestre se i genitori ti danno spontaneamente questi 10 euro ok ma tu fare il giro fisicamente o via whatsapp per chiedere i soldi assolutamente no non sta bene sembra una pezzente no non ho assolutamente questi 10 euro ce li rimetto piuttosto io il problema qual è che i 10 euro di qui 10 euro di là alla fine sei tu che hai pagato il regalo e poi ci fanno bella figura gli altri che non ci hanno messo un euro quindi anche questa cosa va un pochino rivista quarto segnale rende difficile o impossibile addirittura ai tuoi potenziali clienti acquistare autonomamente le cose dal tuo sito quindi vengo sul tuo sito vedi i tuoi servizi basta non ci sono pulsanti di acquisto non usi paypal per acquistare bisogna mandarti una mail o mandarti un whatsapp oppure fare una giravolta fanno un'altra volta guarda in su guarda in giù prova a pensare quando tu vai su un sito e non capisci come acquistare qualcosa che cosa fai scrivi al titolare o se magari è un prodotto che potresti trovare da un'altra parte prendi vai cercando da un'altra parte secondo me la seconda quinto segnale questo devo dire che alzo la mani anch'io hai un sacco di link che non funzionano sul tuo sito io ho cambiato ho spostato i corsi da podia system devo dirti anche un po di tempo fa ormai mi sembra quasi un anno e mi sono resa conto da poco di avere un sacco di link che non funzionano quindi proprio all'interno del blog parlo di un prodotto ma quel link non funziona quindi se hai un blog da un po hai un business online da un pochino quindi potresti avere parlato in passato dei tuoi prodotti ogni tre sei mesi fai un giro magari usando anche un plugin apposito oppure comunque fai un giro sui post più letti sulle pagine più lette per controllare che tutti i link funzionino stesso segnale che stai schifando i soldi offri degli incontri conoscitivi gratuiti in cui fai già il tuo lavoro anziché semplicemente conoscere la persona oppure ti fai pagare ma dai la prossima volta se ti sei trovato bene se poi avete appunto giovamento magari dal trattamento che abbiamo fatto poi mi paghi l'idraulico che viene da te adesso a ottobre per preparati la caldaia per l'inverno non è che ti dice no vabbè ma adesso non mi devi dare i soldi mi li paghi a marzo se la caldaia ha funzionato bene se è stata bella riscaldata ma un cavolo cioè lui gli vuole adesso i soldi che la caldaia funzioni o che la caldaia non funzioni poi se la caldaia non funziona magari torna e magari non ti fa pagare perché avrà di aver fatto male il suo lavoro ma lui i soldi li vuole subito e perché l'idraulico sì e tu no tu la prestazione l'hai fatta adesso e quindi ti fai pagare adesso e preferibilmente ti fai pagare in anticipo settimo segnale hai un metodo che funziona in breve tempo ma non lo proponi perché i tuoi colleghi vendono percorsi più lunghi dei tuoi se però tu sei brava e preparata e porti le persone al risultato in meno tempo questo è un indicatore che tu devi farti pagare di più non pagare di meno perché per metterci meno tempo c'è impiegato degli anni di esperienza e di formazione che non credo ti siano stati regalati tu li hai pagati profumatamente e siamo fra l'altro in un'era in cui le persone hanno poco tempo e hanno poca pazienza per raggiungere i risultati se con te fanno prima ci mettono meno tempo cavolo hai un vantaggio competitivo enorme sfruttalo per concludere lo so che non ti fanno davvero schifo i soldi è solo che ti hanno insegnato che come donna non sta bene parlare dei soldi che i soldi sono una roba sporca che i soldi provocano divisioni fra le persone o quella famiglia lì non si parlano più perché hanno litigato o quegli amici lì hanno tanto amici poi hanno iniziato a litigare per i soldi no togliamocela della testa questa cosa l'altro problema è proprio anche culturale perché come me e come tutte quelle probabilmente che ascoltano questo podcast si è stata cresciuta in una società che vede ancora le donne come appendici di un uomo che provvede a loro se adesso non è proprio così cioè diciamo magari per le nostre figlie o nel 2024 in questo momento le cose non siamo più davvero le appendici di un uomo molto bene sono felicissima però tieni conto che sono solamente 50 anni che possiamo avere un nostro conto in banca e un prestito magari senza la firma di un uomo e tantissime donne non hanno un proprio conto corrente so di un ufficio in una zona ricca del nord Italia in Emilia un ufficio di una ditta che funziona molto bene quindi sono delle dipendenti a tempo indeterminato molte di queste dipendenti si facevano accreditare lo stipendio sul conto del marito perché perché non ne hanno uno proprio no vabbè ma dai ma non serve se ne occupa lui così non ci penso il delegare le nostre finanze a nostro marito al nostro compagno a un uomo della nostra vita non è sintomo di fiducia è sintomo di non fidarci di noi stesse e di un grande lavoro da fare su di noi e sul nostro rapporto col denaro non è colpa tua sei stata condizionata così sei cresciuta vedendo questi esempi e lo so perfettamente che non è che basta che io schiocco le dita e tu cambi testa emozioni e pensieri nei confronti dei soldi ci vuole del tempo ci vuole della consapevolezza ci vuole del lavoro però intanto inizia a renderti conto dei modi in cui respingi i soldi e delle storie che ti racconti sui modi in cui puoi o non puoi guadagnare questi soldi il resto del lavoro lo possiamo fare insieme mandami un dm con la parola bootcamp che ti spiego tutto ci sentiamo nei prossimi episodi un bacio bentornata su mettiti comoda che parliamo di soldi il podcast di silvia lanfranchi la quiet coach la mia missione come money coach e mentore di business online è quella di aiutare le solopreneur come te a far pace col denaro chiedere i soldi che ti meriti imparare a vivere nell'abbondanza manifestando una vita che ami al 100 per cento in questo podcast troverai consigli strategie spiritualità e un po di neuroscienze che ti aiuteranno a trasformare il tuo mindset nei confronti dei soldi sarò la tua coach quella da cui vai quando hai bisogno di essere ascoltata ma anche quando vuoi ricevere la spinta giusta nella direzione giusta sei pronta allora mettiti comoda che iniziamo a parlare di soldi e di business online